Musica Ora, Gesù Norbati, tanificato con il nostro clan, con un compromesso con un altro, il nostro show di notizia è rancasali, del nostro titular, nella pedizione principale di Awe, il giorno 20 di nozione. Oggi cominciamo sempre qui nel Corso, a un'è tardi, durante la conferenza di prensa, del quale il nostro primo ministro è la propria, e la vista che Guandong, Zengron, Energy e il suo gabinete sono in una sorta di disaccordo con l'altro. Questo è il progetto per modernizzare la refineria Isla Corso. Lo ho ascoltato un giorno qui. Tra la donna di Compagnia Inseler, sta riunendo con un sindicato, tocante di eccitazione, con la maggiori di tragi, naturalmente, che sta experienciando nella e-compagnia, la mia è Mellon, lo papia, e noi lo ho ascoltato, dice qui, e con lezione con l'aspetto, non può dire, di aviazione, e compagnia, che si chiama Ava Airways, non sta vigilando la situazione di Inseler, e sta lamentando, che la tragi, non sta perdendo il lavoro, e noi lo ho ascoltato, quindi noi lo ho ascoltato, su declarazione, non dice qui. Nel livello internazionale, del tema, non sta destacando, che, bota mira, un filo largo di gente, lo ho appuntato, c'è chi è gente, che sta guardando, o è come il vendimento, oficial di marijuana, in Uruguay. Quindi, noi stiamo visto, che il tour di marijuana, a cabo, che è un po' di macchina, altrimenti, è interesse, e è locura, nel nome di Uruguay, che, bota mira, di marijuana, che, non sta perdendo, passando mesura, anche per una certa parte, non di nevada, in America, è un po' di macchina, sia le, non lo adunere parol, sia o no, parol, tanifica, e ora è libertà condizionale, è un rambor contento, ora qui, passò, non adunere parol, e, bota, sarà, durante, ultimano, 9 anni, è castigo, tabata, di 33 anni, che, ora qui, naturalmente, lo è, è un rambor liber, dentro di, ma so meno, un, due, tre, luna, non se lo, explicavo, e donavo, il dettaglio, non ho fischale, un chisakirato. Passando, per il prossimo informe, a Bautamera, ma so 40 mil civili, a morire, in battaglia, per Mosul, segun, il medio di comunicazione, naturalmente, è indicato. E, questo è il tema, il più importante, che, è il desarrollo, ora qui, è il tema, che, è il tema, è il tema, che, è il momento, durante la ultima ora, mentre, non si, 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 un informe, di, di un di iuli, è il cuore, e il penultimo, fin di cibo, di luna, numero 7. E, non si, la che, non si, non si, il cristio, non si, non si, non si, non si, non si,